intervistina qui con chi? una foto? no non è allora dimmi pronto pronto non ho bisogno di presentarvela questa bella signora è Giussi Versace che da qualche giorno è anche l'onorevole Giussi Versace che aspetta che gli stringo la mano scusi eh onorevole ma dai sono principalmente il presidente la Disabili No Limits oggi siamo qui per una giornata di festa perché c'è la Scarpa d'Oro una mezza maratona bellissima all'interno della quale da sei anni si svolge la Scarpa d'Oro Ability 5 si è vero e io mi rimproverano perché sono tutti pronti a partire io non sono lì e allora io direi vai di corsa vado a prendere vai capasso sei numero uno